Alla Triennale di Milano, in mostra pezzi delle collezioni storiche Isola, Istituto Sardo Organizzazione del Lavoro Artigianale e Collezione Domo e anche Produzione Contemporanea. La regione porta l'artigianato di Sardegna alla Triennale a un progetto di valorizzazione del patrimonio culturale e per far conoscere la maestria isolana, passata e presente, capace di conservare le tradizioni, dice l'assessore del turismo e artigianato Barbara Argiolas. La prima volta che gli artigiani sardi parteciparono all'esposizione milanese era nel 1957. Sono passati 60 anni. Questo passo, aggiunge l'assessore, è parte di una strategia che comprende progetti innovativi per disegnare il futuro, tra questi gli spazi Isola negli aeroporti, la vetrina online dell'artigianato artistico, la partnership con il Cagliari Calcio, la presenza su Amazon. La mostra alla Triennale si chiama Past Future ed è curata da Giuliana Altea e Roberta Morittu, che mettono in luce la stratificata sedimentazione culturale della produzione artigiana della Sardegna. E lo sguardo sul futuro lo racconta la storia di Isola, un dialogo tra design e artigianato, un oggetto disegnato con lo spirito moderno e prodotto dalla manualità esperta e tradizionale della tessitrice o del ceramista o della cestaia. In mostra anche alcuni gioielli antichi della collezione piloni dell'Università di Cagliari.